E allora si comincia, yeah! Buonasera a tutti, ciao! Benvenuti, naturalmente, un eco giusto per sentire, insomma, se si sente, mi pare proprio che si sente. Come state? Mi mancate dal giovedì al martedì, devo dire la verità, mi mancate abbastanza, quindi sono sempre molto contento di fare le live, perché ormai sono un po' abituato, insomma. Ho visto che ho messo il, diciamo, ho sistemato un po' la ripresa della telecamera un po' alta, beh, però chi se ne frega, l'importante è che si vede bene la lavagna, penso che si veda molto bene, parliamo oggi di legge di Coulomb, mi raccomando all'accento Coulomb e non legge di Culo, Coulomb, ok? Mi raccomando dell'accento, esercitatevi con me, 1, 2, 3, legge di Coulomb, legge di Coulomb, ok? Allora, fantastico, c'è chi segue la mia live dal treno, ma che bello, quanto mi piace, a me piace assai, quando vi dite queste cose mi piace assai. Allora, intanto io devo un po' salutare tutte le persone che sono già presenti, abbiamo nuove spettatori, mi raccomando, la fisica che ci piace, come al solito, mi chiede di mettere live, live, che live, la fisica che mi piace va live, che ci piace va live, di mettere like, di condividere, di commentare tutti i video che il prof fa per voi, perché vi vuole tanto bene, vi vuole tanto bene assai, quindi mi raccomando. vi ricordo che c'è un treno di ritorno in cui c'è un po' di gente che mi sta seguendo, quindi credo che anche una dirigente scolastica stasera potrà ripassare la legge di Coulomb insieme a me, sono molto molto felice, saluto questo treno che sta portando indietro tre vincitori di un bel concorso che c'è stato a Milano, vi faccio i miei complimenti, sono super orgoglioso di voi, perché siamo una grande squadra e questo lo dimostra, e lo dimostriamo nei fatti. Bene, allora io passo a salutare, perché vedo che gli spettatori aumentano e quindi naturalmente ringrazio e saluto, momento che mi accocchio qua, sì, saluto Francesco, benvenuto, Gianmarco, ciao Claudia, una nuova follower, yeah, quanto yeah, saluto Valerio, Ciao Domenico, come stai? Ciao Domingo, naturalmente, saluti a questo treno di ritorno su cui stanno seguendo più persone contemporaneamente una live, quindi non sono 11 gli spettatori, credo che siano almeno 15 in questo momento. Buonasera Matteo, ben arrivato. Allora, attenzione, abbiamo da fare un po' di cose oggi. La legge di Coulomb, che cos'è la legge di Coulomb? Beh, io ho scritto qui la formula, ma non voglio partire con la formula, voglio partire con qualcosa di completamente diverso. Allora, io vi ho fatto quattro schemi, va bene? E questi quattro schemi sono organizzati con quattro oggetti diversi. Intanto vi faccio vedere questi quattro schemi. Avete l'iPad? Avete il foglio di carta? Avete il tablet? Avete qualsiasi cosa? Scrivete. Ciao Enea, ciao The Fun Game, ciao Andrea, ciao Luca, ciao a tutti quelli che si sono connessi in questo momento naturalmente. Quindi segnate sul vostro iPad o foglio o quello che vi pare, quello che sto per farvi vedere. Abbiamo quattro casi. Caso 1, due cariche positive. Caso 2, una carica positiva e una carica negativa. Caso 3, due cariche negative. E caso 4, una carica positiva ed un oggetto neutro. Non carico. Allora, io voglio capire da voi e rispondete a questa mia domanda. Concentriamoci sul caso numero 1. Se io metto una carica positiva o un oggetto carico positivamente di fronte ad un altro oggetto carico positivamente, che cosa succede fra questi due oggetti? Che succede fra queste due cariche? Che fanno queste due cariche? Via le telefonate. Sì, 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 sì. Allora dobbiamo suonare il campanello per Valerio. Ding, ding, ding. Bravissimo Valerio, naturalmente. Bravissimo Francesco, Gianmarco, Domenico, buonasera, benvenuto, Enea, Maria, Domenico. Si respingono esattamente. Questo accade fra due cariche dello stesso segno. Diremo in generale che si respingono perché sono dello stesso segno. Benissimo, si respingono. Caso numero 2. Vamos. Veloce, veloce, senza perdere tempo. Che cosa accade a due cariche di segno opposto? Se io le metto una di fronte all'altra ad una certa distanza, via le telefonate. Yeah! Quanto mi piace vedere questa chatbox che si arricchisce di commenti, dai commentate, provateci, provateci, perché non è detto che il primo sia quello perfetto, che commenti bene, ma ovviamente questa cosa è successa. Fantastico. Ciao Moids, benvenuto, welcome inside. Ok, sì, Luca è il primo. Ding, ding, ding. Luca, campanella per te. Si attraggono. Fantastico. Molto bene. Pazzesco. Andiamo al caso numero 3. Siamo di fronte non a due cariche positive, ma a due cariche negative. Cosa accade se io metto due cariche negative una di fronte all'altra ad una certa distanza? Via le telefonate! Sì, stiamo facendo praticamente una specie di rimbalzo su quello che era il caso precedente. Come nel caso 1, anche qui siamo di fronte a due cariche dello stesso segno e queste due cariche naturalmente si respingeranno. State dicendo bene? Per chi suoniamo il campanello? La campanella per Francesco Conforti. Ding, ding, ding. Attenzione, molto delicato. Caso numero 4. Abbiamo una carica positiva ed un oggetto, vedete, un punto interrogativo, neutro, non carico. Che cosa accade in questo caso? Che cosa fanno questi due oggetti? Che cosa accade? Via le telefonate. Mi raccomando, ragazzi, siete 27 spettatori, ci sono solo 13 like. Io piango. Io piango. Forza, mettete like. Facciamo sompare sto 13 immediatamente a 29, che è il numero di spettatori in questo caso. Ok, ok, perfetto. Leggo già da Francesco Conforti. Dice non succede nulla. Dice Luca, non succede niente. Antonella è d'accordo, dice non succede niente. Domenico lo dice in spagnolo. Nada, perfetto. Niente per Enea. Ne si attraggono, ne si respingono. Mi piace la risposta di Francesco Valerio. Praticamente in questo caso è un'accademia. Allora, ci stiamo avvicinando al concetto di legge di Coulomb. Quando ho due cariche, delle cariche, dello stesso segno, queste si respingono. Se ho due cariche, oppure organizzato con le palline, di segno opposto, o in un caso o nell'altro, mi chiede Moiz, interrompo un secondo, dice di che classe è questa lezione. E questa è una lezione sulla forza fra cariche elettriche. Potrebbe essere una lezione da triennio per i licei e può essere una lezione da secondo anno per le scuole superiori. In un caso o nell'altro, cariche dello stesso segno che si respingono, cariche di segno opposto che si attraggono, agisce una forza fra queste cariche. Questa è la cosa che vi dovete scaffare nella testa. Agisce una forza. E qui vedete proprio in questa formula della legge di Coulomb al primo membro la F di forza. Quindi è molto facile come concetto. Allora, prima di passare... Ciao Marco, buon pomeriggio, buon pomeriggio Daniele, benvenuto. Prima di passare alla formula, ragioniamo un po', cerchiamo di tirarla fuori questa forza, proviamo a disegnarla questa forza. Allora, voi avete detto che due cariche dello stesso segno si respingono. Questa è la carica 1, questa è la carica 2. Allora, disegniamo la congiungente le due cariche, cioè tratteggiamo, diciamo, la direzione sulle quali sono le due cariche e disegniamo i due vettori forza, perché su ogni carica agisce una forza. Qui agisce una forza sulla carica 2 e qui agisce una forza sulla carica 1. F. F. Guardate, ho messo il simbolo di vettore sopra la forza, perché questo è proprio un vettore, ok? Beh, qui siamo nella stessa situazione, salto al caso 3, vado al caso 3. Ok? In questo caso, nel caso 2, avete detto che le due cariche sono disegno opposto, si attraggono. Disegniamo il vettore forza. Esercitatevi anche voi, prendete un pezzo di carta, prendete il vostro iPad, disegnate le due cariche. Lavorate, ragazzi, perché questo vi faciliterà l'interrogazione, il compito, tutto andrà molto liscio, molto bene. Allora, disegniamola, in questo caso, la forza fra queste due cariche. È una forza di attrazione, quindi la dovremo disegnare così. vedi? Avvicino un po'. Ok? In questa quarta situazione non possiamo assolutamente fare nulla. Come l'avete detto prima, non agisce forza. State attenti a questa cosa. Voi direte, ma allora che l'abbiamo scritto a fare, l'abbiamo disegnato a fare? Che ne parliamo a fare del caso 4? L'ho voluto tirare in mezzo, perché molte persone mi seguono in YouTube, quindi sanno un po' che io seguo una logica quando faccio le cose. Scoprirete che è vero che non agisce una forza, ma è vero anche che in questo caso, una carica, qui c'è, ed è questa. E vedremo nelle prossime lezioni, quando parleremo di campo elettrico, che qui un campo elettrico c'è, non c'è una forza, ma c'è un campo. C'è una potenzialità della carica ad attrarre o respingere altri oggetti carichi, ma ne parleremo più in là. Adesso ci interessa solo parlare della legge di Coulomb, della forza di Coulomb. Chiaro finora? Abbiamo disegnato la forza. Ora ci tengo a farvi vedere una cosa, attenti. Allora, dice Moiz, domanda molto molto carina, molto bella. Se qui, al posto della carica più, la carica positiva, avessimo messo una carica meno, quindi una carica negativa ed un oggetto non carico, non sarebbe cambiato nulla dal punto di vista fenomenologico. Non hai forze. Non hai forze perché c'è solo una carica. Per avere una forza, per vedere questa attrazione, questa attrazione o repulsione, devi avere due cariche. Due cariche si attraggono o si respingono. Chiaro? Attenti ora, prima di passare alla legge, ci tengo a fare una cosa che faccio sempre nelle mie classi. Questi vettori, proviamo a capire come agiscono. Per esempio, dedichiamoci al caso numero 3, il caso delle cariche che si attraggono, perché poi alla fine voglio dire, o prendiamo questo caso, o prendiamo gli altri, la stessa cosa. Allora, guarda, guarda che scrivo. Io scrivo come pedice a questo vettore F, al vettore che agisce sulla carica positiva, scrivo F di 2,1. E qui invece scrivo F di 1,2. Ora, non è una cosa facilissima, ma provate a capire perché qui ho scritto F di 2,1 e perché qui ho scritto F di 1,2. Molto importante questa cosa, molto bella, molto carina, molto dentro il concetto di vettore. Perché qui scrivo F di 2,1 e qui F di 1,2? Vi faccio notare che questa l'ho chiamata a carica 1 e la negativa l'ho chiamata a carica 2. Attenzione a questa cosa. Perché scrivo qua F di 2,1 e qua F di 1,2? Scrive Francesco perché le forze si intersecano. Scrive Domenico opposti e uguali in modulo. Corretta questa cosa, corretta questa cosa. Ma perché qui scrivo 2,1 e qua scrivo 1,2? Cioè perché uso questo pedice qua e quest'altro pedice qua? Dice Francesco perché le forze sono opposte. Scrive Antonella perché le cariche sono opposte e le due cifre si invertono. Perché il segno è diverso, scrive Marco. Valerio scrive perché hanno verso opposto. Allora vi state un po', diciamo, state un po' girando sulla cosa, ma andiamo un po' direttamente. Io scrivo F2,1 e si legge qua. La forza, la forza della carica 2 sulla carica 1. Così leggi. Cioè questa forza è la forza che la carica 2 esercita sulla carica 1, attraendola. Guarda quanto è bella questa cosa mentalmente. Entra questa è la forza che questa carica fa su quest'altra carica tirandola a sé. Chiaro? Sto dicendo praticamente che questo vettore qua dipende dalla carica 2. Così come sto dicendo che questo vettore qua dipende dalla carica 1. Leggiamolo insieme. Questa è la forza di attrazione della carica 1 sulla carica 2. Quindi questo vettore, siete di fronte a me tutti i studenti che hanno studiato i vettori, quasi sicuramente, perché insomma questa è una lezione di secondo anno o di triennio di liceo, quindi avete in testa il concetto di vettore. Questo vettore è il vettore che questa carica applica su quest'altra carica. Ecco perché inverto i numerini. Scrive l'IPEC perché sono posti AB e BA. Simpatico. Secondo me è bello questo spunto che hai scritto. Bellissimo, bellissimo. Giuseppina, Giuseppina Fiori. Ding, ding, ding. Per il terzo principio della dinamica. Fantastica. Bellissima. Azione e reazione. Mi piace. Brava Giuseppina. Molto bello lo spunto. Molto bello lo spunto anche di l'IPEC. Molto bene. Bravi. Bene. Quindi avete capito? C'era anche una cosa carina che ha scritto a un certo punto Domenico. Uguali in modulo opposte inverso. Molto bella anche questa idea. Ma allora vogliamo occuparci del modulo di questa forza? Cioè, insomma, abbiamo capito che fra cariche di segno opposto o di stesso segno c'è una trazione o una repulsione. Ma quanto vale questa forza? Signori, ragazzi, quanti newton vale? Come la calcolo questa forza? Che formula utilizzo? Tadà! La legge di Coulomb. Prima di spiegarvi un attimo la legge di Coulomb, dice Vincenzo, e per i primi casi, per questi casi qua, Vincenzo è la stessa cosa, identica, uguale. Cioè, questa la chiamerai F di 2,1 è la forza di repulsione che la carica 2 fa sulla carica 1 e questa la chiamerai F di 1,2. Anche in questo caso questa è F di 2,1 e questa è F di 1,2. Ti faccio notare una cosa. Io ho chiamato le due cariche, Q1 e Q2. Attento, potevo chiamarle anche QA e QB. Quindi questa è F di BA e questa è F di AB. Attenzione che la fisica si fa di convenzioni, si fa di pedici. Quindi occhio quando leggete un problema, quando leggete un esercizio o un compito in classe da risolvere. Non vi fate prendere dal panico. cercate di andare oltre, cercate un attimino di respirare. Fate sempre, quando dovete cominciare un compito di fisica, OM, respirate e quando siete in classe dovete fare OM. Quando siete a casa, le settimane prima, fate OM, ma guardate i miei video. Ricordatevi che io tempo fa ho condiviso un video su come risolvere un problema di fisica, che vi linko qui sopra. Guardatevelo, così imparate a risolvere i problemi di fisica. Molto bene. anche se sono ateo. Ok, va bene. Allora, dedichiamoci a vedere questa forza di Coulomb. Da che cosa dipende? Beh, ragazzi, non è difficile, non vi fate prendere dal panico. Torniamo alle nostre fantastiche palline meravigliose e stupende. Prendiamo queste due cariche. sono tutte e due positive. Quelle blu, cosa avevo indicato? Avevo indicato quelle negative. Vabbè, sono tutte e due negative, chi se ne frega. Va bene, sono tutte e due negative. Sono ad una certa distanza. Chiama questa carica Q1, questa carica Q2 e chiama la loro distanza R. Q1, Q2 ed R. Metti queste due cariche nel vuoto, quindi per esempio nello spazio interstellare, wow, fantastico, oppure mettile nell'aria, esattamente come in questo momento. Io per esempio sono nella stanza, queste due cariche, questi due oggetti carichi, questo oggetto è distribuito a una carica Q1 e su questo oggetto è distribuita una carica Q2, sono immerse nell'aria. Fate finta che io le sto appendendo ad un filo, quindi faccio dal soffitto, metto un filo, appendo questa carica, appendo quest'altra carica, queste sono di segno uguale, quindi si respingeranno. Come calcoli la forza F fra queste due cariche? Quanto vale quella forza F? Guarda la legge, guarda la formula, che non è difficile. Entriamo nella formula. Allora, questa forza è uguale, anzi, questa forza è direttamente proporzionale al prodotto delle cariche, così te la ricordi facilmente, ed è inversamente proporzionale al quadrato della distanza tra le due cariche. Quindi c'è una costante di proporzionalità, che è K0. Che cos'è K0? Non ce ne frega niente, in questo momento non ci interessa, non ci dedichiamo a K0, guardiamo la formula, entriamo nella formula, semplifichiamo, pensiamo semplice, pensiamo facile. Quindi quello che sto dicendo, qui c'è uno 0, K0, poi vi dirò che cos'è questa K0? È una costante, qui sostituiremo un valore con una certa unità di misura, ma lo facciamo dopo. Quindi che cosa sto dicendo? Sto dicendo che se il valore della carica aumenta, rispondetemi voi, rispondetevi voi, scrivetevi voi. Se io aumento il valore della carica, quindi metto sempre più carica, sempre più carica, sempre più carica, sempre più carica, carico sempre di più questi oggetti, cioè il valore della carica di questi oggetti sale uno dei due, oppure di tutti e due. Che cosa succede alla forza? Via le telefonate. Se aumento la carica, che cosa succede alla forza? Voglio leggere altre risposte. Aspetto. Siete fantastici. Vi voglio bene. Bravissimo. Domenico, Francesco, Luca, Gianmarco, Valerio aumenta. Beh è normale ragazzi, pensiamoci. Se tu aumenti questo numero qua, o aumenti questo, o aumenti tutti e due, questo valore è destinato a crescere. Ovviamente stiamo considerando che la distanza rimanga costante. Quindi praticamente forza e carica sono direttamente proporzionali. Meraviglioso. Dice Moyes, e se noi aumentiamo la distanza, quindi prendiamo le due cariche qui, c'è una certa forza di repulsione. Poi le mettiamo qui, c'è un'altra forza di repulsione. Poi le mettiamo così, c'è un'altra forza di repulsione. Allora, signori, se aumentiamo la distanza, che fa la forza? Via le telefonate. Manca il tempo, mi mettete l'ansia. Come va il viaggio in treno? Vi sto facendo compagnia? Leggo, leggo, leggo. Lo dice Domenico. Bravo Domenico. Bravo Luca. Bravo Renato. Benvenuto Renato. Lo dice Tommaso. Diminuisce. Diminuisce. Certo, naturalmente diminuisce. Cioè forza, attenti, e quadrato della distanza sono inversamente proporzionali. Veloce, veloce, veloce. Proporzionalità diretta. Proporzionalità inversa. Ce lo ricordiamo. La diretta ce l'hai quando il rapporto fra le due grandezze è costante. L'inversa ce l'hai quando il prodotto fra le due grandezze è costante. Ti ricordi la proporzionalità diretta inversa? Sapresti ricavare la proporzione? Questo è uno spot. Sapresti ricavare la proporzionalità diretta inversa? No. Non lo sai fare? Allora guarda questo video. Ping! Passatemela ogni tanto che comincia a fare caldo. Ok, fantastico. Allora, togliamoci sto cruccio. Che cos'è sto K0? È una costante. Quanto vale K0? Scrivete. Vale nel vuoto, eh? K0 la puoi utilizzare nel vuoto se le due cariche sono nel vuoto o immerse nell'aria. Se sono immerse in un materiale devi fare un ragionamento diverso. Lo diciamo dopo però. K0 vale? Facile, ricorda la memoria. 9 per 10 alla nona sarebbe 8.99. Vabbè, circa, dai. 9 per 10 alla nona Newton per metri quadri fratto Coulomb al quadrato. La costante vale 9 per 10 alla nona. Un attimo che il nona lo scrivo meglio perché non mi piace. 9 per 10 alla nona Newton per metri quadri fratto Coulomb al quadrato. Punto. Questo è il valore di K0. Ok? È una costante. La puoi applicare, la utilizzi nella formula quando le cariche sono nel vuoto oppure sono immerse nell'aria. Quando sono immerse in un determinato mezzo che succede? Lo diciamo alla fine di questa lezione. Chiaro finora? Ci siamo? Che dite? Fa caldo? Fa un caldo pazzesco? Pazzesco. Ok. Vedo che c'è un sì. Ditemi se è chiaro. E se non è chiaro naturalmente fatemela. Cioè c'è qualche domandina, qualche cosa, come al solito scrivete. Scrivete nella chat box. Io leggo. Se la cosa la trovo interessante, la chiappo immediatamente e la faccio mia. Allora, facciamo una cosa simpatica. I professori quando interrogano amano di solito fare la verifica delle unità di misura. Quindi impariamo a... No, non c'è nessuna regola per la costante. Mi chiede Francesco la regola per la costante. Non c'è nessuna regola. Questo è un valore costante. Punto. Lo puoi utilizzare quando le due cariche sono immerse nel vuoto o sono immerse nell'aria. Non c'è nessuna regola. Spesso i professori chiedono la verifica delle unità di misura. Facciamola. Allora, signori, apriamo una parentesi quadra qua accanto e sostituiamo dentro qui le unità di misura del secondo membro. Combinando queste fra loro, se otterremo l'unità di misura del primo membro, la verifica sarà fatta. Fantastico. Quindi stiamo facendo la verifica delle unità di misura. Ok? Allora, facile. Guardiamo subito. K0. Intanto, scusatemi, prima di fare la verifica delle unità di misura, faccio una domanda a voi. Secondo voi, che unità di misura io devo ottenere sostituendo qua dentro tutto questo ambaradani? Via le telefonate. che unità di misura devo ottenere? Facile, eh? Sapevo. Vi adoro. Con tutto me stesso. Bravo, Francesco, Luca, Francesco, Moiz, Gianmarco, Renato. Dobbiamo ottenere Newton. Vediamo se è vero che otteniamo Newton. Vediamo un attimo. Allora, sostituiamo l'unità di misura di K0. Eccola qua. Newton per metri quadri fratto Coulomb al quadrato. Per, tiriamo una linea, esattamente come leggo qua. Vedi che c'è la linea, tiro la linea. Per, per, linea, linea. Ok? Sopra abbiamo Q1 per Q2. Che cosa devo sostituire? A Q1 e AQ2? Che unità di misura devo sostituire? Prego. Ditemelo voi. Facile, molto facile. Esattamente. Leggo Francesco, Tommaso, Luca, Antonella. Attenta Antonella, no. Occhio, occhio. Coulomb. La carica si misura in Coulomb. L'altra carica si misura in Coulomb. Quindi al posto di Q1 Coulomb, al posto di Q2 Coulomb. Io. Attenti. Sotto denominatore R quadro. Che sostituisco al posto quadro. Ok. Continuo a leggere. Continuo a leggere. Vai, vai. Scrivete. Vai. Sì. 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 Fantastico. Bravissimo. Anche Tommaso addirittura. Tommaso, scusa, ci scrivi per piacere nelaccia. È scritto metri quadri. Guardate, Tommaso ha scritto metri quadri. Quindi finalmente anche in YouTube si può scrivere, o forse sono io ignorante, perdonatemi. Non so scrivere. Come si fa a fare il 2 così? Che c'è una tastiera sul coso speciale. Comunque metri quadri. Din, din, din. Per tutti quanti quelli che hanno risposto, in particolare din, din, din. Per, credo il primo sia stato, non lo so chi è stato. Non lo so. Va bene. Aspetta che tolgo il volume. Fantastico. Serve la tastiera a pedice. Ah. E che cos'è? E dove sta? E dove me la compro? Metri quadri. Allora. Beh. Divertiti. Inzacca. Semplifica. Metri quadri. Va via con metri quadri. Il quadrato di Coulomb va via con un Coulomb. L'altro Coulomb va via con un Coulomb. Tutti i Coulomb vanno via. Che ci resta? Ci resta? Newton. Fantastico. Meraviglioso. Verifica delle unità di misura. Fatta. Meraviglioso. Fantastico. Mi piace. Ragazzi. C'è anche una cipolla. Per lui e la cipolla. Petro. Per Petro e la cipolla. Yeah. Allora. Attenzione. Facciamo un problema. Perché a me piace sempre fare la parte teorica. però. Come dice l'amica mia. Un'amica mia di Bari. Si vabbè. Ma la sostanza. Allora andiamo alla sostanza. Andiamo alla sostanza. Facciamo un problema. Allora scrivete. Perché voi fate i calcoletti. Io svolgo con calma il problema qua alla lavagna. Così vi faccio vedere come si fa un problema. Dati schema svolgimento. E così ci esercitiamo a fare anche un problema su questa fantastica. Questo fantastico argomento di oggi. Mi dice. Professore. Grazie a lei. Mi ha alzato la media da 5 a 5 più. Yeah. Hai prego. Hai guadagnato un più. Va bene. Che ti devo dire. Va bene. Cioè. Insomma. Un più è sempre un più. Meno male che non siamo andati indietro. Allora. Attenzione. Vi detto la traccia. segna. I miei studenti questa traccia dovrebbero saperla fare. Perché proprio oggi parlavamo in classe della carica elettrica elementare e dell'elettrone. Ma questa non è una lezione sugli elettroni. Quindi io non anticipo delle cose. Naturalmente saluto tutti quelli che sono entrati in questo momento in live con noi. Buonasera a tutti. Allora. Attenzione. scrivete. Calcolare la distanza fra due elettroni che si respingono con una forza di 2 per 10 alla meno 21 newton. Gli elettroni ovviamente sono posti nel vuoto. Grazie. Allora. La ripeto ancora una volta. Vado veloce. Calcolare la distanza fra due elettroni che si respingono con una forza di 2 per 10 alla meno 21 newton. I due elettroni sono posti nel vuoto. Al suo compito preso 9 sentendo tutte le lezioni. Alessandro. Sì. L'applauso fantastico. Complimenti. Sono fiero di te. Sono orgoglioso di te e di me. E di me. State seguendo le lezioni del... State seguendo la lezione che sto condividendo il venerdì. Ogni venerdì piccola lezione in inglese. Quindi mi raccomando. Follow me every Friday because I'm gonna share every Friday a lesson in English. So you can improve your English as you are improving your physics skills. Questo è molto interessante. Molto bello. Una doppia opportunità che avete. Migliorare l'inglese e migliorare la fisica. Ci piace. Mi dice Kiruj Kishu. I don't speak English. It's such a pity. So try to study English because it's very important today. Ok? Allora. Mettiamo i dati. Nel frattempo suggerimento natural. Lezioni in tedesco. Ci posso lavorare Moiz. Ci posso lavorare. Credimi. Ci posso lavorare. Potrei cogliere l'occasione perché le lingue sono una cosa molto molto bella. Quindi appassionatevi se potete. Voi che siete più giovani di me fatelo. Allora dicevo. Per tutti quelli che non hanno fatto lezione con me sull'elettrone abbiamo detto in classe che l'elettrone ha una carica, ha un valore di carica molto molto preciso stabilito. Quindi vi piace che io lo dica. Googolate la carica dell'elettrone perché nella traccia io non vi ho dato la carica dell'elettrone ma la potete googolare e potete cercare quanto vale la carica dell'elettrone. Dopodiché avete tutti i dati per risolvere il problema. Allora. Problema. Dati. Allora il problema dice calcolare la distanza fra due elettroni che si respingono con una forza di 2 per 10 a meno 21 newton. Allora vediamo un po'. Sono due elettroni. Quindi facciamoci furbi. Scriviamo carica 1 uguale carica 2 uguale q uguale scriviamo il valore della carica dell'elettrone. Spero l'abbiate googolato, l'abbiate cercato ma il valore della carica dell'elettrone è 1,6 per 10 a meno 19 coulomb. Poi ci dice che gli elettroni, i due elettroni, si respingono con una forza di 2 per 10 a meno 21 newton. Ci dice di calcolare la distanza. R uguale punto interrogativo. Signori i dati sono finiti. Vediamo lo schema. Dove lo faccio lo schema? Io non volevo prendermi tanto spazio. Schema. Allora l'elettrone io l'ho fatto col colore blu quindi lo disegniamo qua. Abbiamo un elettrone, abbiamo un altro elettrone, mettiamo il meno dentro. Disegniamo la congiungente le cariche. la tratteggi. Chiamiamo questa carica Q, questa carica Q. Non hai bisogno di distinguere, sono tutti e due elettroni, quindi la carica è uguale ed è questa. Disegna le due forze, una è questa e l'altra è questa. Le chiami F ed F. 2, 1, 1, 2. Non hai neanche bisogno, perché sono uguali le cariche, ma va bene. Così semplifichi lo schema, fai una cosa facile, alla lavagna sarai fantastico, sarai molto molto veloce. E attenti, questa in mezzo è la distanza. Quindi questa è la distanza che noi chiamiamo R. al Sacro Romano Impero, Alberto Angela. Eh beh sì, Sacro Romano Impero, tu c'hai il canale YouTube del Sacro Romano Impero, stai spiegando quello, fate, se fate altre lezioni, storia, cose, che vi devo dire? Meraviglioso, io ero appassionatissimo di storia e filosofia. Allora, chiaro, dati, schema, scusatemi per la sovrapposizione, si è un po' tutto mescolato, ma non fa niente. Svolgiamo il problema. Svolgimento. Svolge. Tiriamo una bella linea qua. Come svolgo il problema? Allora, la cosa bellissima che io ho sempre consigliato, in quel famoso video che vi ho dato in allegato prima da vedere, vi ho sempre detto, quando dovete svolgere un problema, non entrate nel panico e dici, madonna mia, come faccio a trovare la formula? Che formula? Qui vi chiede la R, quindi uno spontaneamente dovrebbe scrivere R uguale e la formula. Ma come fate a scrivere direttamente la formula della R? È una fatica inutile. Non c'è bisogno di scriverla. Consiglio del professore tuo. Scrivi la formula diretta, quella che tu conosci. In questo caso, la formula della legge di Coulomb. Scrivi F uguale K0 per Q1 per Q2 fratto R quadro. Ti faccio notare una cosa. Le due cariche le abbiamo chiamate entrambe entrambe Q. Quindi Q per Q fa Q quadro. Cioè, invece di scrivere Q1 e Q2, qua puoi scrivere K0 per Q per Q fratto R quadro. Q per Q fa Q quadro. Quindi hai F uguale K0 Q quadro fratto R quadro. Ma tu vuoi R. Allora che devi fare? Devi fare la formula inversa. La collaborazione. Devi fare la formula inversa. Io vi ho sempre detto, se avete la formula del tipo A uguale B fratto C e vuoi quello che sta qua sotto, scambia di posto, scambia di posto questo con questo, veloce veloce, non perdere tempo. Quindi ciò che hai implica, implica R quadro è uguale a K0 Q quadro fratto F. Ma tu vuoi R, non vuoi R quadro. E allora che fai? La radice quadrata di entrambi i membri. Radice quadrata di questa storia qua e radice quadrata di quest'altra storia qua. La radice quadrata di R quadro fa R. La radice quadrata di K0 Q quadro fratto F. Punto. Signori, questa è la benedetta formula inversa. Mi raccomando, se non sapete fare le formule inverse, non vi ricordate, c'è il professore vostro che vi vuole tanto bene. Vi voglio bene assai, ma tanto, tanto bene assai. Guardati questa live e impara a fare le formule inverse. Ping! Allora che faccio? Prendo questa formula, me la porto qua sopra e la risolvo. Sostituisco i numeri. R uguale radice quadrata di K0 Q quadro fratto F. Uguale. Vamos! Vamos de matematica! Holle! Allora, K0 è 9 per 10 alla nona newton per metri quadri fratto Coulomb al quadrato. Per Q quadro sarebbe 1,6 per 10 alla meno 19 al quadrato. 1,6 per 10 alla meno 19 al quadrato. Coulomb al quadrato. Tutto fratto F. 2 per 10 alla meno 21 newton. Era 2 per 10 alla meno 21 newton. Perfetto. Guardiamo le unità di misura. Così ci togliamo già davanti una cosa. Allora, newton va via con newton. Coulomb al quadrato va via con Coulomb al quadrato. Mi resta la radice quadrata di metri quadri che è metri. Io! Fantastico! Infatti io sto calcolando una distanza. Devo avere metri. Quindi mi ritorna l'unità di misura. Molto metri quadri, perché le altre le ho tolte, per 1,6 al quadrato per 10 alla meno 38, proprietà delle potenze, potenza di potenza, si moltiplicano gli esponenti, fratto 2 per 10 alla meno 21. Basta, mi resta solo quei metri quadri. Insomma, signori, se fate i calcoletti, eccetera, eccetera, mettete insieme un po' le cose. Il risultato che si ottiene alla fine. Qualcuno l'ha scritto il risultato? Qualcuno è riuscito ad arrivare al risultato, ragazzi? Vediamo. Che unità di misura hanno i Coulomb? Coulomb, naturalmente. Un po' complessa la formula? Ah sì, insomma, un po' di passaggio. Buono, meno male. Considerate che questo è un tipico problema che i professori di fisica, quelli, volevo dire un parolaccio, quelli cattivi mettono di solito. Mi sono persa, ti riprendo, non ti preoccupare, Claudia, riprendo un attimo tutto da capo, tanto ci abbiamo tutto, guarda, ci abbiamo tutto. Facendo i calcoletti si ottiene 3,4 per 10 alla meno 4 metri. E questo è il risultato, questa è la distanza. Eccola qua. Allora, vi riprendo, non ti preoccupare. Allora, rivediamo tutte le cose che abbiamo fatto. Abbiamo preso la legge di Coulomb e abbiamo fatto la formula inversa rispetto alla distanza. Come ho fatto a fare questa cosa qua? Beh, intanto mi sono scritto q1, q2 come q quadro, perché le cariche sono uguali, ragazzi, sono le stesse cariche, quindi lo puoi fare. Poi dopo di che vi ho detto, scambia di posto questa con questa, ottieni questa formula, estrai la radice da tutti e due e ottieni r uguale, la radice di k0, q quadro fratto f. L'ho presa, seguimi, Claudia, e l'ho ricopiata qua sopra. Guarda, r uguale a k0, q quadro fratto f sotto radice. La vedi? Dopodiché ho sostituito i dati. A k0 ho sostituito 9 per 10 alla nona, newton per metri quadri fratto colomba al quadrato. A q quadro ho sostituito q quadro. q è la carica dell'elettrone, se googli lo trovi il valore, q quadro, a f ho sostituito il valore di f che arrivano i dati. Le unità di misura si semplificano, newton va via con newton, coulomb quadro va via con coulomb quadro, ti resta metri quadri, fantastico, tiri fuori dalla radice e ti viene metri. Per quanto riguarda i numeri, il quadrato di questa roba qua mi viene 1.6 al quadrato per 10 alla meno 38, qua si tratta di moltiplicare questo 9 per questo 1,6 al quadrato, dividere per 2 e poi 10 alla 9 per 10 alla meno 38, se vuoi passi sopra il 10 alla meno 21, 10 alla 21 e ottieni il risultato. Ovviamente questa non è una lezione di matematica sulle potenze del 10, sulle formule inverse. Nel mio canale youtube trovate tutti i video su come fare le operazioni con le potenze del 10, su come fare una formula inversa, quindi se qualcosa di matematica non è chiara cercatela nel mio canale, fidatevi, non vi preoccupate, imparerete. Allora mi dice Pedro una definizione veloce di Coulomb. Allora il Coulomb è l'unità di misura della carica elettrica, punto. È inutile aggiungere altre chiacchiere, questa è la definizione di Coulomb. Coulomb è un'unità di misura ed è l'unità di misura della carica elettrica. In particolare il valore 1.6 per 10 alla meno 19 Coulomb è il valore della carica elettrica dell'elettrone ed è anche la carica elettrica elementare. Va bene? Grazie a te Claudia, figurati. Domanda. Perfetto, vedo che anche Domenico ha scritto. Perfetto, sei contento? Pedro va bene? Ok? E se le cariche non sono immerse nel vuoto, non sono immerse nell'aria, ma sono per esempio immerse in un materiale, per esempio un dielettrico, per esempio un isolante, due cariche immerse nel vetro, sia due elettroni o due cariche uguali immerse nel vetro, si respingeranno naturalmente, ma con la stessa forza? O meno? O di più? Cioè, come faccio a calcolare il valore della forza se le cariche non sono più nel vuoto? Ecco, la situazione si complica un pochettino. Io l'anno scorso ho fatto un video, più o meno un annetto fa, su risolvere un problema, vi dico anche dovete andare più o meno a metà del video che vi manderò, che vi allegherò fra poco qua sopra, su come risolvere un problema di due cariche che invece di essere immerse nel vuoto sono immerse in un via elettrico, cioè in un materiale. Eh, qualcuno dice dipende dalla densità, dalle forze che agiscono, sono commenti corretti, figurati Pedro, ci mancherebbe un piacere, cambia la formula, bisogna aggiungere qualcosa, guardate il video che vi mando, più o meno la metà, vi dico anche dove, scusatemi, guardate il video che vi mando, dal minuto 29, ok? Dal minuto 29, quel video qua, ping! Bene ragazzi, è stato fantastico, mi auguro abbiate apprezzato moltissimo questa lezione abbastanza complicata, devo dire la verità, sulle forze, sulla forza di Coulomb. Ricordo a tutti che è, giovedì prossimo ci sarà come ogni giovedì la live di matematica, ma l'argomento della prossima volta sarà lo studio di funzione, quindi una live di matematica, come dicono gli inglesi, advanced, un attimino più importante, dedicata al terzo anno di scuole superiori, tecniche, professionali anche, o addirittura al quarto, quinto anno di licei, studio di funzioni, nella live di giovedì prossimo, di dopodomani vedremo come studiare il segno, quindi la parità, l'intersezione con gli assi, il dominio di una funzione e, non ricordo se dobbiamo fare qualcos'altro, ah, è la tendenza all'infinito della funzione, quindi come disegnare il grafico approssimato di una funzione, quindi live un attimino avanzata, dedicata ai ragazzi più grandi, ma dovevo farlo, perché le live di matematica, alcune, saranno per argomenti un attimo più difficili, conto di fare live anche per gli esami di Stato, con calma, purtroppo la giornata è fatta da 24 ore, non ce la faccio oltre. Mi auguro sia piaciuta da live, altro video, non mi appare niente, si è ragione, scusami, Pedro, carico i video che di solito faccio bim bim bim, quella roba là, li carico sempre quando la live è caricata, quindi troverai i video fra la mezz'oretta, comunque stasera, se ripassi e riguardi questa live stasera vedrai che ad ogni bim corrisponderà un video, va bene? Va bene? Ok, did you like it? Ci vediamo la prossima volta, che dite? Grazie ragazzi, fantastico, bellissimo, io mi sono divertito un monte, come dicono a Prato, mi sono divertito un monte, allora come al solito il professore vi lascia i suoi, aiuto stavo cadendo, i suoi fantastici video realizzati quest'estate al mare, quanto mi manca il mare, quanto mi manca il mare, sui trucchi di matematica, guardatevi i trucchi di matematica, ci vediamo la prossima volta, see you next time, bye, commentate questo video sotto, ciao, ciao!